L'indicatore di momentum ovvero un oscillatore molto utilizzato in analisi tecnica che misura la velocità e la forza nella tendenza dei prezzi. Oggi vediamo come calcolare la formula e poi andremo sui grafici ad evidenziare come si utilizza e in quali casi può essere utile. Cominciamo dalla formula che è piuttosto semplice, infatti consiste nella sottrazione di due valori, ossia il prezzo di chiusura dell'ultima seduta è quello registrato in un determinato numero di sedute precedenti. P1 quindi rappresenta il valore del prezzo di chiusura dell'ultima seduta meno il P2 che è il prezzo di chiusura registrato nelle X sedute precedenti. Di default il momentum è impostato a 10 ma nulla vieta di modificare questo parametro con il numero delle sedute che vogliamo prendere in esame. Graficamente il momentum si presenta come una linea continua che oscilla sopra e sotto la linea dello zero. Quando il momentum è superiore alla linea dello zero la tendenza dei prezzi è rialzista, mentre quando scende sotto la linea di equilibrio la tendenza dei prezzi è ribassista. Vediamo ora qualche esempio concreto di quanto vi ho appena detto. Grafico settimanale di Enel, trend rialzista in atto, prezzi quindi che salgono e momentum che effettivamente si mantiene costantemente sopra la linea dello zero. In quest'altro caso invece trend ribassista in atto e momentum che si conferma con l'oscillazione sotto la linea dello zero. I due scenari che vi ho appena rappresentato rappresentano due situazioni tipiche che possiamo osservare quando inseriamo il momentum come indicatore. In un trend rialzista possiamo notare come la velocità del momentum è positiva, pertanto si presume che la forza e la solidità della tendenza in corso possa aprotarsi ancora. Pertanto sarebbe utile aprire solo operazioni long. In un trend invece palesemente in discesa con il momentum che si conferma, quindi con una velocità negativa dei prezzi, quindi al ribasso, in questo caso avrebbe senso operare, se si opera in trend, solo aprendo posizioni short. Oltre alle situazioni diciamo estreme, quindi trend palesemente a rialzo con momentum impostato a rialzo e trend ribassista con momentum che conferma la tendenza ribassista, quindi sotto la linea dello zero, vi sono situazioni in cui possiamo assistere come il rialzo dei prezzi a un certo punto non venga più accompagnato dalla tendenza di momentum. E' questo il caso di Montclair. Come potete osservare in questo caso c'era un trend rialzista in atto, che è questo, che fino a un certo punto è stato accompagnato anche dal momentum, che ve lo evidenzio in questo caso, vedete prezzi in salita e momentum che conferma. Dopodiché assistiamo a un'ulteriore salita dei prezzi, come in questo caso, andiamolo a evidenziare ancora come proseguimento, mentre possiamo notare che il momentum incomincia a decrescere, quindi c'è in questo caso una divergenza. Questo cosa sta a sottolineare? Sta a sottolineare che probabilmente la forza del trend in atto, che è un trend rialzista, si sta assottigliando, sta perdendo forza questo trend. Un ultimo scenario, un'ultima situazione da analizzare, trend ribassista in atto, questo è il settimanale di Azimuth. Il momentum, come vediamo, fino a un certo punto ha accompagnato questo movimento al ribasso, ma quando i prezzi hanno continuato a scendere, come in questo caso, ed eravamo a giugno, fine giugno del 2022, i prezzi scendevano ancora, in questo caso il momentum è entrato in divergenza, perché vedete in basso come la linea del momentum in realtà stava già cominciando a salire, anticipando che, in poche parole, il trend ribassista in atto stava perdendo di forza. Infatti poi, eccolo qua, la divergenza di momentum, a un certo punto il titolo inverte la rotta e passa al rialzo. In conclusione cosa possiamo dire del momentum? È un indicatore, quindi, che abbiamo capito, che ci dà l'idea della forza, della velocità con cui si muove la tendenza dei prezzi, ci può dare delle indicazioni in anticipo, quando lo andiamo a evidenziare con delle divergenze che possono essere negative oppure positive, come abbiamo visto nei casi di Moncler e di Azimuth. È, diciamo, un campanellino di allarme, che può anticiparci quello che potrebbe essere un indebolimento di un trend in atto, che sia esso rialzista o ribassista, ma diciamo che non può essere sufficiente preso come singolo indicatore per prendere posizione. Quindi ogni movimento va analizzato per quello che è il contesto generale del mercato e anche del titolo stesso. Facciamo ora un ultimo esercizio. Vi sottopongo alla vostra attenzione alcuni grafici di titoli diversi, anche titoli esteri, e vi lascio qualche secondo per vedere se riuscite a cogliere da soli le divergenze di momentum. Il primo grafico che vi faccio osservare è quello di Apple. Questo è un grafico giornaliero. Avete colto il momentum in divergenza? Se non lo avete colto ve lo faccio vedere io. Guardate come su questo trend rialzista, che per un certo punto è stato accompagnato dal momentum, quindi fino a qui, sulla seconda salita, e quindi ancora con nuovi massimi, avevamo un momentum invece che andava decrescendo. Quindi questo nuovo massimo ha visto una divergenza negativa di momentum e in effetti poi il titolo ha incominciato a scendere. Vediamo adesso un altro esempio. Grafico, orario, Fuzzimib. Avete notato la divergenza? Guardate questi minimi e questo minimo. e guardiamo il momentum come su il secondo minimo, che è più basso, addirittura sotto i 23.400, il momentum stava già cominciando a salire rispetto a questo minimo, che si trova più in basso. Minimo più alto, minimo più basso. Divergenza rialzista di momentum. Questo, tra l'altro, è un grafico in tempo reale. Vedete come si sta muovendo. In questo momento siamo poco sopra i 23.700 punti. Grafico giornaliero di Prismian. Qui ne vedo due. Andiamo subito a vederli per velocizzare un po' il video. Prezzi in discesa qui, prezzi ancora in discesa qui, momentum in divergenza. Prezzi scendono, momentum sale e poi i prezzi salgono. Prezzi continuano a scendere e addirittura vanno a trovare nuovi minimi rispetto a questo. A questi, scusate. E momentum, mentre i prezzi scendevano, lo vediamo meglio. Vedete come i prezzi scendono e il momentum sale. Prezzi scendono e il momentum sale. E poi di nuovo salire dei prezzi. Attenzione a questo massimo. In area 36, che vede un momentum in divergenza. Anche qua, direi che rispetto ai massimi che aveva trovato, guardate qui dove era il momentum, eravamo in area 30 euro, adesso siamo in area 36, e quindi mi sarei aspettato una linea di momentum superiore a questo massimo. Mentre si trova ben al di sotto. Quindi, attenzione a questo nuovo massimo con momentum in divergenza. E chiudiamo velocemente, anche vedendo un indice estero, in questo caso il DAX, pochi secondi perché qui la divergenza è molto evidente. Avete notato come su questa congestione, che ha visto anche dei nuovi massimi in area 16.000 punti, avevamo una forte divergenza di momentum, che poi ha anticipato quello che sarebbe successo con la perdita dei 15.000 punti e l'affondo. Guardate qui. Prezzi sui massimi e momentum che scendeva. Bene, era l'ultimo esempio. Grazie per l'attenzione e al prossimo video. Grazie. Grazie.